Allora, come forse si saprà, ma se non si saprà è questa, le banche, le fondazioni bancarie per legge devono destinare una parte dei loro utili al volontariato, alle attività sociali. C'è un organismo che si chiama COGE, che è un coordinamento regionale, che gestisce questi fondi e poi li destine in tutte le province. Nelle province chi è deputato a ripartire alle associazioni di volontariato questi fondi, sì, è il centro servizi. Le ripartisce non sulla base ovviamente di una impostazione personalistica ma sulla base di progetti, le associazioni di progetti di iniziative sociali, di volontariato, di attività nei vari campi e poi vengono valutate e sulla base della loro rispondenza ai quesiti, ai canoni previsti per questi fondi e per questi progetti vengono finanziati. In questo ambito, io che rappresento un'associazione che è l'Auser, presente anche a Vicenza, faccio parte del direttivo, insieme con altre persone, cerchiamo appunto di far funzionare questo meccanismo di aiuto a questi cittadini che con la loro generosità fanno i cittadini attivi in un momento così difficile nel quale essere cittadini attivi. Questo è il decennale praticamente di questa iniziativa. Il bilancio, secondo il parere mio, ma anche del collettivo, del direttivo, è estremamente positivo perché è un'occasione nella quale a Vicenza si mettono in piazza le associazioni, i cittadini, che manifestano con la loro attività il proprio impegno sociale, il proprio impegno di persone alle quali non basta più vivere la loro vita individuale, ma è indispensabile vivere una vita anche in funzione delle comunità nelle quali vivono perché essere utili alle comunità, secondo il parere mio e anche nostro, è anche un momento di crescita per se stessi, insomma, perché è un momento nel quale ti misuri con la società vera. AUS è una stazione nazionale che svolge essenzialmente due grandi attività. La prima di cultura, noi abbiamo l'orgoglio di dire di voler costituire anche dei momenti di educazione per le persone adulte, abbiamo anche università, chiamiamole così, università popolari, ma abbiamo anche momenti meno formalizzati di iniziative proprio di approfondimento di cultura, non solo per esempio la conoscenza dell'inglese o dell'informatica, ma per esempio qui a Vicenza si sta facendo un seminario che dura tutto un anno sulla storia del Cinquecento, quindi con momenti di approfondimento sulla letteratura, sulla pittura, sulle arti, sulle scienze, eccetera, e poi spesso si combina queste attività con dei viaggi di approfondimento. Questo è il primo campo. Il secondo è più prettamente di volontariato, il nostro fiore all'occhiello si chiama Filo d'Argento, noi attraverso il telefono ci rendiamo disponibili ad aiutare le persone sole o che non hanno possibilità di fare altro, di essere per esempio accompagnate a una visita medica, a fare la spesa, a ritirare di farmaci, eccetera, noi i nostri volontari spesso insieme, in combinazione con le assistente sociali, spesso anche da soli, cerchiamo di fare questa attività, cioè una persona ci telefona e noi nei limiti delle nostre possibilità andiamo e gratuitamente facciamo questo servizio.